Oh oh che è successo? Via via via! Via via via, non ti bolle! Via! Via, sbarriamogli addosso, sta scappando, sta scappando! Che farò? Eccolo, eccolo, sta scappando! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale dei Cavaleri Family! Prima di cominciare questo strepitoso video iscrivetevi al canale Cavaleri Family e cliccate sulla campanella! Oggi ragazzi, Aurora, Noemi e mamma Claudia si sfideranno a duello a colpi di qualcosa di magico! A colpi di qualcosa di speciale che a voi tutti piace! Guardate, guardate! Ho comprato delle cose stupende! Vi faccio vedere solo questo! Ta-da! Sapone liquido! Che cosa si può fare col sapone? Buu! Scrivetelo giù nei commenti! Vediamo quanti di voi scrivono la risposta esatta! Pa-pa! Vi ho dato un indizio! Adesso scrivete giù nei commenti di che cosa si tratta! Ma andiamo a vedere dove sono Aurora, Noemi e mamma Claudia! Vediamo! Guardate ragazzi! Là ci sprizzi ragazzi! Ssss! Vediamo! Ho detto di prepararsi! Vediamo, vediamo! Ssss! Sprizzi! Zitta, zitta! Va bene, sprizzi! Guardate ragazzi! Loro non mi stanno vedendo! Guardate! Ssss! Guardate! Noemi! Cosa fanno? Noemi! Ci senti? Toc, toc! Sì! Che sei? Cocco! Ciao! Auri ma cosa fai? Mi devo vestire! Ma scusa, ma Noemi dov'è? Eh, boh! Guarda sotto le coperte! Sotto le coperte! Vediamo! Sotto le coperte! Proprio qui? Sì! Vediamo, vediamo! Tadà! Ti ho beccato! Conellina! Conellina! Ancora ancora? Ancora lo devo fare? Sì! Va bene! Allora, vediamo dove è Noemi ragazzi! Vediamo, vediamo! E di qua? No, no, di qua non c'è! Vediamo se è qua! Vediamo! Ah! Cosa? 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 Aurora! Noemi! Basta giocare così! Lo sapete perché? Perché siamo per fare un'esperienza unica! Auri ma sei bellissima! Un outfit ragazzi stupendo quello di Aurora! Mi piace ragazzi? Scrivetelo giusto in commento! Ma adesso vediamo quello di Noemi! Wow! Guardate! Ma Noemi, ma cosa c'è scritto qua? Noemi! Ma no! C'è scritto love! Amore! Wow! Bellissimo amore! Abbracciamoci, abbracciamoci tutti! Papi, ma tu come sei vestito? E papi ha il suo outfit! Quello dei Cavaleri Family! Ovviamente ragazzi, per averla basta andare su www.cavalerifamilyshop.it e troverete anche tanti altri gadget a vostra disposizione! Emi! Ma cosa fai? Guardate ragazzi! Ma quale state scegliendo? Questo Auri! Vediamo, vediamo! Ragazzi guardatemi! Aurora! E guarda! Pantaloncino dentro la maglia di Minnie! Vediamo Auri! Sbrilluccica! E vediamo poi cosa c'è qui! Un bel fiocco! Quale scegli hai tu tu Emi? Questo! Ma è tutto sbrilluccicoso! Vediamo, vediamo! Ok ragazzi! Non mi resta altro che vedere dove è la mamma! Vediamo se è qua dietro! Vediamo, 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 vediamo! Emi è qui la mamma! No! Non è neanche qui i fornelli! Non è da nessuna parte! Può essere che è in giardino! Ragazze! Avete visto la mamma? No! Proviamo a vedere fuori! Che dici? Andiamo a vedere! Andiamo a vedere fuori! Ragazzi venite con noi! Venite, venite! Vediamo se è qui ragazzi! Ah ma sei qui! Era ora eh! Ah era ora! Da tre ore che ti giochiamo! Scusa eh! Ma dove eravate? Guardate la mamma dove era! Prendersi il sole! Mi stavo rilassando anche se oggi c'è poco sole! Ok mamma! Sei pronta a fare questa challenge? Io sono pronta! Ma di che cosa si tratta? Scusami è un'ora che vi aspetto qui! Sorpresa! Sorpresa! Cosa dobbiamo fare? Ho visto! Ho sbirciato! Ho sbirciato! Sono le bolle! Monelle hanno sbirciato ragazzi! Secondo voi che cos'è? Scrivetelo giù nei commenti! Bolle! 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 Allora mamma siete pronte? Sì! Tre! Due! Uno! Papà! Wow papi bolle di sapone! Io direi che questo è proprio un gioco super perfetto per i bambini! Ma di che challenge si tratta? Scusami sono proprio curiosa di scoprirlo! Mamma dobbiamo vedere chi di noi riesce a fare la bolla perfetta! Ma non con questi mamma! Come non con quelli? Scusami sono già bravissime loro! Con che cosa dobbiamo fare le bolle? Sai con cosa? Ho tre regali per voi da spacchettare! Siete pronte? Siete pronte? Sìììì! Primo regalo per Noemi! Rullo di tamburi! Auri! Auri! BAM! Cos'è? Una pistola per le bolle! Una pistola sparabolle! Poi a voi a me! Poi? Per Aurora Dove fa? Cosa fa? Pistola per le bolle Mamma Spacchettate subito Certo sono la più grande io Dai spacchettate subito Vediamo 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 queste pistole giganti Sparabolle sono curiosissima E voi ragazzi avete mai provato A sparare le bolle con una pistola Sparabolle scrivetelo giù nei commenti Io non l'ho mai fatto Mamma non è finita qui Questo è per te Ma che cos'è papi? Super ruota panoramica di bolle Aprile pure Lo apro lo apro Vediamo mamma chi vingerà E' una sfida questa tra tutti noi Auri mostraci la tua pistola Sparabolle Aspetta che stai sparando bolle tutte attorno Fammi vedere Wow un'infinità di bolle Io direi che già Aurora è impazzita Guardate Vediamo la tua pistola Intingi E vai spara Wow Ma è bellissimo Brava Emi Questa è enorme Brava Emi Valla sempre più grande Mamma mia Ma questa è veramente una guerra di bolle di sapone Guardate qua Mamma mia Intingi intingi Vai 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 Brava Emi Guardate Emi Posso provare? Oh sei una professionista Provo questa Scambiatele un attimo Brave Ora tocca ad Aurora Vediamo vediamo Oh Quella era enorme Brava Emi Brava Spingi spingi ancora Più veloce Più veloce col dito Eccole Ragazzi siamo ufficialmente sommersi dalle bolle di sapone Guardate Aurora che mi spara addosso le bolle Aiuto Siamo completamente invasi Sono anche tutta bagnata di sapone E voi avete mai fatto una guerra di bolle di sapone? Scrivetelo giù nei commenti fatecelo vedere Ragazze ma avete fatto una montagna di bolle di sapone Ma la potete distruggere A te Tauri Bocco ai piedi dentro Si attaccheranno alle scarpe Vai Emi di nuovo vai vai Sparate 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 per terra Mamma ma questi stanno combinando un macello Ma cosa stai facendo? Cosa fai? Cosa fai? Cosa dici scusa? Ma cosa fai mamma? Guardate Ma con le bolle si torna bimbi Ma no 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 ferma Devi usare il tuo Guarda E' elettronico Ma mi hai comprato un ventilatore Ma quale ventilatore mamma? Non è un ventilatore Questo lo devi inzuppare lì nel sapone E lo azioni Proviamo proviamo sono curiosa Emi ma cosa stai facendo? La montagna di bolle? Guardate ragazzi Siete pronti? Si 3 2 1 Ragazzi devo dire che al momento sta vincendo la mamma Cioè praticamente con un macchinario ha fatto 150 milioni di bolle Tieni 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 Cosa fai? Sparo Spazza le bolle Niente ragazzi la mamma è partita Guardate guardate Vincerò io Quante bolle farò al secondo? Non lo so Vincerò io Vincerò io Vincerà la mamma Ma come al solito Voi lo sapete che papà salvo ha sempre un asso nella manica no? Guardate adesso come li frego ragazzi Con una cosa geniale E vincerò io questa challenge Mauri Mi è venuta un'idea Cosa? Inseguiamo papà E riempiamolo di bolle Abbiamo pistole Abbiamo tutto Lui non se lo aspetta Era dietro Sei pronta? Si E allora Guerra di bolle sia Oh che è successo? Via via Riempiamolo di bolle Via Sbarriamogli addosso Sta scappando Sta scappando Guardate la fai Sta scappando Eccolo 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 Colpito Colpito Ma secondo voi è giusto Ma mi stanno facendo mangiare le bolle Ma basta Via 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 Guardate Agglomerati di bolle Ma è bellissimo Sembra di stare nel cartone di Prozen Di nuovo Un'altra bolla gigante Unita insieme Guardate La sto seguendo Oh forse è lei che sta seguendo me Aiuto Vai No No Eccolo Eh scusate Noi ci stiamo sfidando Ma papà Dov'è finito? Secondo me stai scogitando qualcosa Non so cosa Ma secondo me Ne vedremo delle belle Tra poco Papi dove sei? Shhh Ragazzi Ve l'avevo detto che avevo l'asso nella manica Adesso li fregherò sicuramente Grazie al mio elicottero Loro si vedranno sparare le bolle dall'alto verso il basso Ho già vinto vero? Scrivetelo giù nei commenti Però Entro tre secondi ragazzi Mettete un bel mi piace Per il mio elicottero spara bolle Tre Due Uno Avete messo il mi piace per il mio elicottero? Ve lo faccio vedere a voi per prima Siete pronti? Guardate C'è un filo qui Lo sparo Mi hanno scoperto ragazzi Mamma Secondo me papà ha vinto Voglio farlo io In effetti secondo me papà salva proprio l'asso nella manica Quest'elicottero spara bolle È fantastico Guardate Ci ha fregato tutti Mamma no Veramente mi hanno fregato il mio elicottero Scusa eh Vai Auri Madonna È partito nella siepe Auri Ma l'elicottero dove è andato? Ha preso il volo Nella siepe Bravo papi Tocca a me Tocca a me Tocca a noi 3 2 1 Va bene papi Io continuerò a fare le mie bolle Col mio bel ventilatore Ventilatore Mamma guarda Oh mamma mia Papi va bene Hai vinto Abbiamo capito Ma cosa stai facendo? Mamma Siccome ho vinto Devo festeggiare la mia vittoria Ragazzi Se anche questo nuovo video vi è piaciuto Ricordatevi di Iscrivervi al canale Cavaleri Family E cliccate sulla Cabanella Ma soprattutto ricordatevi che Noi siamo i Cavaleri Family Ora io ti sparo No no ma che Io ti sparo Adesso così Tieni 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 Non vale La mia pistola è più piccola Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Vi spariamo le bolle Tieni Aspetta 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 Non te ne andare Clicca qui Per iscriverti al canale Cavaleri Family Clicca qui Oppure qui Se vuoi continuare a guardare Uno dei nostri video Ciao a tutti